Uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale e regionale, con speciale riferimento alla conferenza sui cambiamenti climatici in corso a Parigi e ai problemi ambientali che alcuni stati insulari del Pacifico si trovano ad affrontare. Sono stati temi al centro dell'incontro, oggi in Vaticano, tra Papa Francesco e il primo ministro dello Stato indipendente di Samoa. La sala stampa della Santa Sede è inoltre reso noto che nel corso dei cordiali colloqui ci si è soffermati su alcuni aspetti della vita sociale ed economica del paese, nonché sull'apprezzato contributo della Chiesa Cattolica in vari settori della società samoana e in particolare nell'ambito dell'educazione.